Anche Torre del Greco tra i comuni dal cuore d'oro. A Palazzo Baronale la consegna del premio Fondazione Teleton. Presenti alla cerimonia insieme al sindaco Luigi Mennella e all'assessore alle politiche sociali Maria Teresa Sorrentino, la presidente dell'associazione La Libellula e ambasciatrice Teleton per il territorio, Maria Orlando, volontari e famiglie. Questi premi hanno un profondo significato. Essere vicino a persone che hanno bisogno e che vedono associazioni impegnate sotto questo aspetto, credo che non ci siano parole per poter dire grazie, per poter viversi questi ragazzi, per fare in modo che queste associazioni crescano sempre di più. E l'avere avuto questo riconoscimento ci mette anche con il cuore ancora più profondo e che guarda veramente verso un futuro sul quale bisogna lavorare tantissimo per dare a questi ragazzi quando più assistenza possibile. Anche quest'anno siamo qui al Palazzo Baronale per consegnare l'attestato da parte di Teleton per quanto concerne il comune di Torre del Greco che è rientrato nell'elenco dei comuni dal cuore d'oro anche quest'anno. È una sorta di attestato di merito alla nostra città in quanto la mia associazione funge da ambasciatrice già da un po' di anni sul territorio per la fondazione Teleton, per la raccolta fondi per le malattie genetiche rare e quindi mi inorgoglisce il fatto che anche quest'anno la nostra città è rientrata nei comuni dal cuore d'oro. Sono felice ovviamente del risultato che abbiamo ottenuto anche quest'anno perché l'iniziativa Teleton ha portato i suoi frutti e quindi anche quest'anno raccogliamo i frutti di quella che è la sensibilizzazione, di quella che è la solidarietà della cittadinanza torrese. Quali sono i problemi che ancora si riscontrano qui a Torre del Greco? C'è un alto tasso di disabilità, quindi ci sono molte famiglie che versano disagi in quanto hanno familiari disabili in famiglia, addirittura anche familiari affetti di malattie genetiche rare dove non si riesce ancora a capire quale può essere la metodologia per poterli curare o quantomeno alleviare i loro disagi. Ben il 45% della popolazione torrese possiede all'interno del proprio nucleo familiare una persona diversamente abile e quindi i disagi sono ancora tanti da combattere. Le istituzioni su questo ci potrebbero essere di grande aiuto. È un bambino disabile, una malattia rara, ha una disabilità molto grave e noi ci affidiamo tanto a Teleton che possa fare molto molto di più per queste malattie genetiche che magari possiamo arrivare ad una quotidianità migliore per i nostri figli. Per noi volontari è un frutto di tanto impegno e sacrificio per la raccolta fondi sulle malattie genetiche rare e quest'anno diciamo abbiamo portato voce anche nelle scuole quindi cerchiamo di dare anche un po' forza ai ragazzi di oggi insomma avvicinarli al mondo del volontariato e della beneficenza. Siamo davvero felici per aver sostenuto anche quest'anno la fondazione Teleton e noi cerchiamo sempre di dare un messaggio ai giovani per aiutare chi è in difficoltà e ovviamente per fare bene al prossimo.